Abbiamo pregato. Perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Questa è l'esperienza che hanno avuto queste due donne, la cui storia abbiamo letto nelle due letture. Una donna innocente, accusata falsamente, calunniata, e una donna peccatrice. Ambedue condannate a morte. La donna innocente e la peccatrice. Qualche padre della Chiesa vedeva in queste donne una figura della Chiesa. Santa, ma con figli peccatori. Dicevano in una bella espressione latina, la Chiesa è la casta meretrix. La santa con figli peccatori. Ambedue le donne erano disperate, umanamente disperate. Ma Susanna si fida di Dio. Ci sono anche due gruppi di persone, di uomini. ambedue addetti nel servizio della Chiesa, i giudici e i maestri della legge. Non erano ecclesiastici, ma erano nel servizio della Chiesa, nel tribunale e nell'insegnamento della legge. Diversi. I primi, quelli che accusavano Susanna, erano corrotti. Il giudice corrotto, una figura emblematica nella storia. Anche nel Vangelo, Gesù riprende nella parabola della vedova insistente, il giudice corrotto, che non credeva in Dio e se ne importava niente degli altri. I corrotti. I dottori della legge non erano corrotti. Ma ipocriti. Queste donne, una è caduta nelle mani delle ipocriti e l'altra nelle mani dei corrotti. Non c'era uscita. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Ambe due le donne erano per una valle oscura, andavano lì, una valle oscura verso la morte. La prima, esplicitamente, si fida di Dio e il Signore intervenne. La seconda, poveretta, sa che è colpevole, vergognata davanti di tutto il popolo, perché il popolo era presente in abbe due situazioni. Non lo dice il Vangelo, ma sicuramente pregava dentro, chiedeva qualche aiuto. Cosa fa il Signore con questa gente? Alla donna innocente la salva, gli fa giustizia, alla donna peccatrice la perdona, ai giudici corrotti li condanna. All'ipocriti li aiuta a convertirsi e davanti al popolo dica, sì, davvero, il primo di voi che non ha peccati, che butte la prima pietra. E uno per uno si sono andati. A qualche ironia, l'Apostolo Giovanni qui, quelli udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando da più anziani. Rilascia un po' di tempo per pentirsi. I corrotti non perdonano, semplicemente perché il corrotto è incapace di chiedere perdono, è andato oltre. Si è stancato? Non si è stancato, non è capace. La corruzione gli ha tolto anche quella capacità che tutti abbiamo di vergognarci, di chiedere perdono. Il corrotto è sicuro, va avanti, distrugge, sfrutta la gente come questa donna, tutto, tutto, va avanti. Si è messo al posto di Dio. E alle donne il Signore risponde. A Susanna la libera di questi corrotti, la fa andare avanti. E all'altra, neanche io ti condanno. Va, ed ora in più non pecare più. La lascia andare. E questo davanti al popolo. Nel primo caso il popolo loda al Signore. Nel secondo caso il popolo impara. Impara com'è la misericordia di Dio. Ognuno di noi ha le proprie storie. Ognuno di noi ha i propri peccati. E se non se le ricorda, ma pensi un po'. E li troverai. Ringrazia Dio se le trovi, perché se non le trovi sei un corrotto. Ognuno di noi ha i propri peccati. Guardiamo il Signore che fa giustizia. Ma che è tanto misericordioso. Non vergogniamoci di essere nella Chiesa. Vergogliamoci di essere peccatori. La Chiesa è madre di tutti. E ringraziamo Dio di non essere corrotti. Di essere peccatori. E ognuno di noi, guardando come Gesù attua in questi casi, si fidi della misericordia di Dio. e preghi con fiducia nella misericordia di Dio, preghi il perdono. Perché Dio mi guida per il giusto cammino a motivo del Suo nome. Anche se vado per una valle oscura, la valle del peccato, non temo alcun male perché Tu sei con me. Il Tuo bastone e il Tuo vincastro mi danno sicurezza.